Buongiorno a tutti, io sono Massimo, già avevamo chiacchierato del più del meno prima, lavoro in Microsoft, sono un trainer e in questa sessione vorrei parlarvi del SQL Server utilizzato come strato di persistenza delle durable function. In realtà è un argomento un po' di nicchia nel senso che le durable function, adesso vedremo, sono una estensione delle Azure Function, quindi in questa sessione io darò per scontato cosa sono le Azure Function, le richiamerò quando vedremo la demo, però la cosa importante secondo me è capire e ragionare su che cosa sono le durable function. Allora sono un'estensione delle Azure Function, brevemente che cos'è un Azure Function? È letteralmente un pezzetto di codice eseguito in ottica serverless, serverless significa non mi interessa, significa intanto la parola detta così sembrerebbe non esistono i server, in realtà non lo è, significa semplicemente io mi voglio astrarre dall'infrastruttura, caro Azure, in realtà le Azure Function funzionano anche localmente, è il motivo per cui vi farò vedere la demo sulla mia macchina, caro Azure, caro runtime delle Function ti do questo pezzetto di codice, questo snippet di codice, la mia Function che ha una valenza atomica, cioè deve essere scritta per fare una unità atomica di elaborazione, tu falla partire all'occorrenza quando serve a necessità in base a dei trigger, i trigger sono non sono altro che un componente applicativo del framework, delle Function che sveglia la mia funzione, che lancia in esecuzione la mia funzione quando accade qualcosa, che ne so, la scrittura di un blob, l'arrivo di una chiamata HTTP, piuttosto che ne so, il fatto di aver aggiunto qualcosa in SQL, ok? e fa partire la mia funzione, la mia funzione lavorerà i dati che riceve da questo trigger, chiaramente altrimenti ha poco senso, quindi ha i dati di ciò che sta accadendo e può interagire con il mondo esterno tramite altri componenti che si chiamano bindings. Uno dei limiti delle Function è che di trigger e binding non ce ne sono moltissimi, ce ne sono una trentina, ma è basata, per come è pensata, per il runtime che utilizza, è estendibile. Estendibile significa che io mi scrivo il mio trigger e il mio binding per i miei sistemi. Una estensione delle Function è quella delle Durable Function. Qual è lo scopo? È quello di andare a realizzare tramite, in architettura serverless di tipo Function, dei workflow. Perché qual è il grosso problema? Il problema delle Function è che una Function non può chiamare direttamente un'altra Function. In realtà, se avete capito come funziona il trigger, una Function potrebbe scrivere magari in una coda un qualcosa e quella scrittura fa partire un'altra Function, ma direttamente non può farlo. E se pensate come è fatto un workflow, in generale un workflow, altro non è che un'orchestrazione di operazioni atomiche. E quindi mi servirebbe la possibilità di chiamare da una Function un'altra e poi tornare, prendere il risultato, chiamarlo un'altra. Quindi quello che vuole, diciamo, implementare questa estensione è esattamente questo. Ma, attenzione, siamo in un mondo serverless, quindi deve implementarlo in maniera serverless. Che significa? Significa che se A chiama B, finché viene esecuzione, non è che A aspetta, perché se A, a parte che non può aspettare, ma se A aspetta, consuma risorse. E siccome uno dei mantra del serverless è pagare per quello che usate, in quel momento non lo state usando. Quindi il meccanismo deve essere serverless, cioè A chiama B, A si mette a riposo, quando B ha finito A riparte. Quindi va gestito lo stato, vanno gestiti i restart, vanno gestiti i checkpoint, cioè dove sono arrivato fondamentalmente e questo me lo fa l'estensione delle Durable Function. Come fa? Non è magia, è basato su un framework che si chiama Durable Task Framework, scritto in C Sharp, open source, così come le Durable Function, così come le Function, quindi è tutta roba open source. Così come vedremo lo strato di persistenza, il provider che si occupa dello strato di persistenza ed è, diciamo, lo scopo del Durable Task Framework è proprio gestire questo stato, questi checkpoint, questi restart, in modo tecnologia serverless, delle nostre funzioni. Come lo fa? Usa uno strato di persistenza, è lì che andremo a vedere che quello strato di persistenza, che per default è lo storage, in realtà è configurabile e una delle possibilità è SQL Server. E poi capiremo quando sono gli scenari. I linguaggi utilizzabili per le Function sono tutti questi più Java, per le Durable Function al momento non c'è Java, al momento non c'è Java, non so se arriverà in questo momento, e le Durable Function sono scrivibili in C Sharp, F Sharp, cioè il mondo Microsoft, JavaScript, Python e PowerShell, perché no? Come sono, che cosa posso fare? Quali sono gli attori all'interno delle Durable Function? Sono fondamentalmente quattro, noi ne vedremo tre, perché andremo a vedere come funziona un workflow, quindi nel workflow, ve lo faccio vedere anche nella slide successiva, quello che serve è il client, l'orchestrator, le activity. L'entity è un'implementazione di un qualcosa serverless che è in grado di ricevere n chiamate e di aggregare dati, quindi una sorta di actor, ok? Actor nell'ottica modello applicativo per la concorrenza, ok? Ma non lo vedremo, poi se siete interessati contattatemi, ci sono un sacco di stati di link, di architetture, ma l'entity in questo momento non ci interessa, a noi ci interessa vedere come funzionano la parte di orchestrazione, la parte di workflow e soprattutto come viene persistito. Che cos'è il client? Il client è l'inizio di tutto, abbiamo detto, questo è, stiamo parlando di workflow serverless, quindi il workflow parte, avrà un inizio, no? Il workflow parte, fa qualcosa e finisce. Lo start, diciamo la scintilla che fa partire il nostro workflow è il client, perché? Perché siccome abbiamo detto le nostre funzioni durabili, quindi le durable functions, sfruttano dei trigger e dei binding che astraggono la persistenza, beh, io però il mio workflow, il mio workflow dovrà partire con uno degli altri trigger, magari anche il mio, e quindi la client è una normale function che parte con uno dei trigger esistenti, custom, quelli che volete, ma poi utilizza un binding specifico dell'infrastruttura per fare cosa? Per andare a chiamare l'orchestratore. L'orchestratore è il responsabile della gestione delle chiamate a tutte le varie attività, alle varie operazioni, quindi è esattamente l'orchestratore. Questo signore non deve fare nulla che non sia, diciamo, sempre la stessa cosa, che non sia casuale, non può usare numeri casuali all'interno, non può usare il timing, deve sempre ripetere le operazioni così come sono. Perché? Perché fa l'orchestrazione, se ci servono numeri casuali, se ci servono calcoli temporali, possiamo demandarli a delle attiviti, le attiviti altro non sono che effettivamente le attività che vengono fatte. Adesso poi vi farò un esempio molto semplice, però immaginiamo di dover ricevere, che ne so, una chiamata HTTP e, che ne so, scrivere in una banca dati e a scrittura eseguita mandare una mailing. Beh, la ricezione della chiamata è una cliente, la client farà la partita, la mia istanza dell'orchestrazione, posso averne più istanze in esecuzione. La mia istanza di orchestrazione cosa farà? Chiamerà la prima attività che salva i dati, tornerà il risultato, è andato bene, è andato male, fa quello che volete, immaginate lo scenario, e poi chiamerà un'altra attività che manda la mail, manda l'SMS e così via. E ovviamente non è semplicemente un'attività in serie, ma dentro potete parallelizzare, fare dei cicli, fare degli if, insomma è codice, quindi quello che fate da codice lo potete scrivere, lo scrivete però in ottica serverless. La cosa carina è che queste due freccettine, così come il fatto, adesso lo vedremo da, in un piccolo mentre slide, così come il fatto dell'orchestrator è serverless, quindi come vi dicevo, quando l'orchestrator chiama l'attività per scrivere una banca dati, si mette a riposo, non rimane in attesa, altrimenti consumere queste risorse, il restart e le chiamate tra client orchestrator e orchestrator activity avvengono tutti, tutte in maniera asincrona, significa che nessuno aspetta l'altro, cioè non ho un lock, cioè non ho una catena, nessuno aspetta l'altro e vengono, viene utilizzato quello che si chiama storage provider, quindi la parte di persistenza dello stato sottostante per astrarre queste chiamate, quindi voi dal codice dite, oh io voglio chiamare l'attività per la scrittura una banca dati, poi come questo viene fatto, è un dettaglio implementativo demandato allo storage, che può essere plagato, che può essere cambiato, quindi non astraggo tutta la gestione dello stato, ok? Poi magari nella prossima slide sarà più chiara. Allora vediamo un po', un esempio, io ho F1, F2, F3, tre funzioni e le voglio chiamare in sequenza, magari prendendo quei blocchettori, quei simili database blu che vedete, non sono altro che il recupero del risultato della prima chiamata per utilizzare parzialmente nella seconda, poi vi farò vedere nella demo. questo potrebbe essere benissimo lo scenario del tipo, ma arriva la richiesta, io F1 scrivo nella banca dati, F2 scrivo in un file, in un blob, F3 mando la mail, ok? Sono in sequenza e in questo caso non c'è una gestione del flusso, ma immaginate che ci possa essere, se il risultato della scrittura è andato bene, faccio qualcosa, altro l'ho mantenuta sul semplice, si chiama function chaining, ce ne sono diversi di pattern che possono essere utilizzati, vi ho messo nella parte finale delle slide, i riferimenti alla parte documentativa, in cui trovate tutti questi pattern e quindi, e poi vi suggerirò un fantastico libro alla fine della sessione, semplicemente perché è gratuito, molto piccolo, 100 pagine, è gratuito e quindi vi invito a scaricarlo. Allora, quali sono le problematiche qui? Come faccio a chiamare F2 da F1? Le function non possono chiamare una con l'altra, ok? Non possono esserci chiamate dirette. Due, solleviamo queste domande perché poi daremo le risposte capendo come funziona lo strato di persistenza. Anche se io riuscissi in qualche modo F1 a chiamare F2, beh, questo da F1 a far partire F2 tutto sommato non è complesso perché se io usassi per esempio una coda e agganciassi F2 al fatto che viene scritto qualcosa in una coda, beh, F1 potrebbe scrivere e far partire F2. Ma come faccio a gestire il risultato di F2? Cioè io voglio prendere il risultato di F2, farci dell'analisi, il blocchettone blu tra F2 e F3, voglio fare qualcosa, un if banalmente, prima di chiamare F3. Se F2 per chiamare F3, così come ha fatto F1 su F2, usa una coda, quando io ho scritto una coda, sono fuori dal mio codice. Eh, quindi non riesco ad intervenire. Dovrei far sì che F3 abbia tutta una logica di dire se ricevo una certa cosa, faccio una cosa, ma state legando F3 ad F2 in maniera stretta e la cosa non ci piace, non ci è mai piaciuta e non lo vogliamo fare. Ecco, come faccio a gestire le eccezioni? Se F2, uno chiama F2, F2 va in errore. Come faccio a riprendere il contesto e magari, diciamo, mettere in piedi dei meccanismi di recupero? Eh, non lo posso fare perché se F2 cresce, non sto più nel mio codice, qui veramente non sto più nel mio codice, non partirà altro. Quindi è un problema, ed è un problema grosso. Queste sono tre, diciamo, problematiche che le durable function vi risolvono. Come è fatta? A me questo è il codice, quindi, anche bruttino, cioè non particolarmente bello, però è interessante. Questo è come è fatta un orchestratore di una durable function. Intanto è una function, e questo lo capiamo dal fatto che qui in alto c'è scritto function name. Questo marca un metodo, questo è un metodo che ritorna una ready string, ed è quello che vedremo nella demo. Si chiama runorchestrator, ma il nome del metodo dal punto di vista del linguaggio di sviluppo non ha nessun senso per il framework delle function, quello che conta è il nome che voi date nel function name. Quindi questo function name dice, oh eh, caro runtime delle function, sappi che questa è una function. Poi, il fatto che sia un orchestratore dato dal fatto che sto usando un orchestration trigger. Trigger è colui quale sveglia la mia funzione, in questo caso questa mia funzione è svegliata dalla richiesta di un'orchestrazione, e quindi è un orchestrator. Questo context qui è il payload del trigger, ogni trigger ha il suo payload. In questo caso questo context mi permette di accedere alle funzionalità di orchestrazione in maniera astratta. E in particolare qui cosa dico? Caro context, voglio chiamare l'attivity che si chiama activity e passagli un valore. Quando torna, il risultato lo metti nell'array, successivamente chiama un'altra, la stessa activity in realtà con un altro valore, potrebbero essere diverse, io per semplicità clicchiamo sempre la stessa, ma insomma capite che possono essere diverse. mi aspetto un risultato string, aggiungerò la lista del risultato, stessa cosa, richiamami, io sto chiamando F1, F2, F3 e il risultato li sto aggregando in un array. In questo caso F1, F2, F3 sono distanze diverse della stessa funzione, ma che potrebbero essere diverse, i risultati potrebbero non necessariamente essere stringa, i risultati potrebbero essere degli oggetti complessi, purché serializzabili, quindi qui c'è completa astrazione e quindi questo è codice di business, chiamiamolo così, io non entro nel merito di come sta roba poi verrà persistita, ok? Non mi interessa, a me interessa che questo parta, chiami activity con Tokyo, prende il risultato, lo metta nell'array, chiami activity con Seattle, prende il risultato, lo metta nell'array, chiami activity con London, prende il risultato, lo metta nell'array e lo restituisca, e lo renda disponibile, non lo restituisca, poi vedremo, ok? Quindi che sia disponibile al termine, ok? Quindi non è difficile, quindi questa parte è la dichiarazione dell'orchestrator, e questa parte sono le attivi di Function, le chiamate, bene, come funziona tutto il giro del fumo? Dov'è la magia? Allora, vabbè questo è il riferimento tra le varie F1 e F2 e F3, anzi, vi faccio vedere la demo, vi faccio vedere la demo, anzi no, prima vi faccio vedere un'altra cosa, facciamo così, vi illustro un'altra slide, che prima ve la illustro sulla slide, vedete, poi ve la faccio vedere praticamente, allora questa è la situazione, noi abbiamo la nostra orchestrator Function qua sopra, e le nostre singole Function, in questo caso è lo Tokyo, perché gli viene passato Tokyo, è lo Seattle e lo Londo, poi vediamo il codice, che succede? Quello che starta il tutto è il client, il client riceverà la richiesta, e farà partire l'orchestratore, esiste una tabella, tabella, quando lavoreremo in SQL, vedremo che è effettivamente una tabella, se lavoriamo con lo storage, che è il provider di default, è una tabella anch'essa, ma dello storage, esiste un ulteriore provider, che si chiama Netherit, poi ne lo esaminiamo, in quel caso sarà un'altra cosa, ma diciamo un repository, in cui vengono scritti, tutti gli eventi, che vengono, a cui l'orchestratore è interessato, il primo, orchestrator started, quindi quello che farà il client, sarà depositare in una coda, o in una tabella SQL, un qualcosa, che dice alla piattaforma, bionda piattaforma, tu devi far partire l'orchestratore, e quindi che cosa succederà, dopo di questo, che l'orchestratore parte, troverà il metodo call activity async, e quindi dirà, ah ok, allora qui mi devo fermare, perché sto, devo aspettare il risultato dell'activity, e devo chiamare l'activity, quindi scriverà nella sua storia, o è sto, ho schedulato F1, e adesso mi metto a riposo, quindi verrà tolto dalla memoria, e a questo punto, il framework, userà il solito meccanismo, di asincronicità, per chiamare l'activity, l'activity verrà invocata, l'orchestrator dorme nel frattempo, e si sta facendo un ricco pisolino, l'activity verrà, diciamo, invocata, e il framework scriverà, nella storia degli eventi, dell'orchestratore, guarda, l'attivity ha finito, il risultato è l'Ottochio, a questo punto, siccome l'attivity ha finito, il framework è sempre, la magia è data sempre, dal framework sottostante, quindi voi non, in realtà per voi è trasparente, però è importante capire, come funziona il giro, il framework cosa farà, rifarà partire l'orchestratore, e ricostruirà lo stato, come fa? Beh c'è gli eventi, quando arriva qui, dice ok, ma io questo l'avevo già schedulato, ed è completato, quindi lo salto, vado a quello dopo, quello dopo, beh devo chiamare, non l'ho ancora fatto, devo chiamare l'attivity, quindi salvo, negli eventi che ho schedulato, F2, richiamo F2, F2 tornerà a un valore, che finirà nell'history, il framework rifarà partire, l'orchestratore, in questo modo, ogni volta che l'orchestratore, chiamano attivity, può essere tolto dalla memoria, quindi non sta occupando risorse, non pagate, scalate di più, meglio, a questo punto lui riparte, diciamo, io la prima già l'ho fatta, perfetto, salto la seconda, ma la seconda già l'ho fatta, tocca la terza, e lui gestisce anche eventuali if, cose del genere, perché è codice, quindi alla fine non è un problema, la terza verrà invocata, darà un risultato, tornerà indietro, a questo punto riparte di nuovo l'orchestratore, e quello che succederà, ok la prima è completata, la seconda è completata, la terza è completata, e quindi se vi ricordate com'era il codice, c'era semplicemente il fatto di dire, ho chiuso, ho finito, vabbè qui il risultato non c'entrava, quindi il risultato sarebbe l'array di string, ok in realtà non è corretto, poi lo correggiamo, ci dovrebbero essere parentesi quadre, però il meccanismo è questo, cioè lui ogni volta che deve chiamare un'attivity, dice ok io ho schedulato quest'attivity, mi metto a riposo, il framework fa partire l'attivity, l'aver schedulato l'attivity, quell'evento contiene tutte le informazioni necessarie al framework, per sapere qual è l'attivity da chiamare, e qual è il payload, quindi in realtà è tutto gestito dal framework, andiamo a vedere come è fatto, allora io ho questo codice poi disponibile in un GitHub repo con tutti dei sample, allora di default il, vediamo il comportamento di default, allora questa che vedete qua si chiama client, questo è il nome che ho dato io, il fatto che sia un client, cioè la scintilla che fa partire l'orchestrazione, è perché all'interno sto usando questo binding, questo non fa altro, si chiama durable orchestration client, mi permette di far partire una nuova orchestrazione, start new, io non sto passando nulla all'orchestratore, ma posso passare un oggetto anche complesso, purché sia realizzabile, quindi che cosa fa? Fa partire l'orchestrazione e poi va avanti, va avanti perché il tutto è asincrono, adesso vi faccio vedere quando lo lanciamo, anzi qui già ci mettiamo un bel break point, quando lo lanciamo lui fa start e poi continua, non è che aspetta, perché l'orchestratore potrebbe durare tempo, e quindi potrei andare in timeout con l'http, in realtà c'è un altro metodo che potete usare per dire, ok farlo partire, ma se finisce nell'immediato, in un certo timeout aspetta il risultato, altrimenti è uno qualcosa di asincrono, allora qualcuno potrebbe dire, sì ma se parte io vado avanti, come faccio a avere il risultato, sapere a che punto sta? Bene, questo metodino qui, adesso vediamo cosa restituisce, restituisce una serie di end point gestiti dalla piattaforma, che mi permettono di capire in che stato sta l'orchestratore, se è finito, se è in running, e andare a recuperare lo stato, quindi ho anche tutta una serie di API, sono API REST, messa a disposizione per recuperare lo stato. Perfetto, quindi lui dice, fai partire l'orchestratore dal primo, la prima scintilla, questo è il nostro orchestratore, quindi mi metto qua, anche, quello che avete visto prima, l'attivity è quanto di più stupido uno possa scrivere dal tono dello scritto a io, non può essere particolarmente intelligente, riceve, riceve il nome, questo string viene assolutamente serializzato e deserializzato dalla piattaforma, qui potrebbe esserci fattura, mio contatto, una mia classe, non è un problema, perché sia serializzabile, qui viene passato e qui lo restituisce, il risultato è una stringa, quindi questo semplicemente scrive say hello to Tokyo, si at London. Benissimo, vediamo come funziona. Lo lanciamo, ho intanto, mentre lui parte, io ho il simulatore dello storage locale, sto usando Azureite che è il simulatore dello storage, quando voi lo lanciate vengono create all'interno delle table due tabelle, hub history e hub instances, questa si chiama history, secondo voi che contiene? Esattamente, quella tabella della storia degli eventi che l'orchestratore sta ricevendo, le activity non hanno un problema, le activity partono e chiudono, l'orchestratore invece deve avere lo story, in questo momento non c'è ancora nulla, semplicemente perché io non ho lanciato nulla. Vediamo un po' se, ok, siamo pronti, come vedete c'è la client identificata da un URL perché io la faccio partire con una chiamata e poi un activity e un orchestrator, proviamo a chiamarla una volta, andiamo qui e faccio una richiesta, basterebbe un sito web perché questo è un browser, perché questa è la chiamata get, ma insomma, volevo fare il figo. Perfetto, sono entrato nel client, guardate che succede adesso, io faccio continue è partito l'orchestratore ma qua ho già il risultato perché come ho detto è asincrone, se guardate questo risultato spero si veda, altrimenti aumentiamo un po' lo zoom, qua io ho delle, degli URI, status query get URI, questo mi permette di recuperare lo status dell'orchestratore, questo mi permette di terminare l'orchestratore da fuori, quindi mi dà tutta una serie, oppure fare il restart, quindi mi dà tutta una serie di informazioni, di API che posso utilizzare direttamente o magari mediandole tramite un mio layer per andare ad accedere a l'orchestratore, qual è l'ID dell'orchestratore, eccolo qua, ce l'avete come ritorno, ok, quindi questo vi consente di gestirlo, ma in questo momento non ci interessa, vediamo che cosa sta succedendo, io parto, quindi quello che faccio è andare avanti, quindi devo fare con l'activity, lui si metterà a riposo ed è partita l'activity, per me è come se fosse una chiamata dietro le quinte normale, quindi questo va avanti, cioè dietro le quinte nel senso, è come se fosse una chiamata tra metodi standard, no, dei cluster si sciarpe, ma in realtà io quello che sto facendo dietro è un qualcosa di tipo, scusate qui devo fare un F5, se no entro dentro al framework e sono ripartito sull'orchestratore, io ho fatto la prima activity, sono rientrato nell'orchestratore, guardate la magia, la digitizzazione, questo lo salta, questo lo salta perché l'ha già fatto, è quello che stava nell'evento e dove sta scritta sta roba? Se vado qui nell'history e faccio refresh, ops, ho una serie di record per quelli di e qua guardate un po' che c'è scritto, perché straight ho started, execution started, sono diverso da quello che ho scritto io ma semplicemente io l'ho semplificata quella tabella, però qui dentro c'è tutto quello, tutti gli eventi che sono accaduti nell'orchestratore in modo che lui sia in grado sempre di ripartire, ricapire dove è andato. Ora se mando avanti tutto, quindi tolgo questa roba qui e mando avanti, lui a un certo punto finirà, io ovviamente qui non ho indicazione che è finito, posso usare l'API che ho visto prima ma se vado qua c'è un po' più di storia che testimonia tutto quello che è accaduto, quindi intanto io potrei far ripartire un orchestrator dove voglio, basterebbe togliere i record e alla fine questi sono i risultati parziali, quindi lui usa questa tabella per mantenere i risultati parziali e status completed risultato totale, quindi lui di default lui il framework sta usando lo storage per persistere gli eventi, persistere le istanze esistenti, quindi questa è l'istanza dell'orchestratore con lo stato completed e qui avete anche il risultato dove è in fondo, eccolo qua, quindi non è necessario andare a leggere la storia e ricostruirla, qui c'è lo stato attuale e poi in realtà usa delle code, qui dovremmo trovare delle code, eccole qua, queste code qua per la comunicazione, quindi quando l'orchestratore chiama l'attiviti in realtà quello che succede viene scritto un messaggio in una coda e l'attiviti parte perché c'è un messaggio ma questo lo gestisce lui. La cosa interessante è capire poi come farà SQL che non ha le code a gestire sta roba qua, ok? Però il meccanismo è semplice, cioè è semplice, una volta capito è semplice, ci arrivo io quindi va sicuro che non è difficile, se ci arrivo io di solito io vengo usato come cavia se capisco una cosa è perché è semplice. Ok, bene, parliamo di storage providers. Allora, cosa ho in questo momento? Ho l'Azure Storage, ok, che è il servizio Azure per memorizzazione di blob, espone le code, espone le tabelle, espone la parte di Azure Files. Di default usa questo, poi potete decidere se siete locali sulla vostra macchina, stia usando il simulatore oppure che usi quando la deployate su Azure un effettivo storage. Non richiede setup perché è quello di default, se non la stringa di connessione dello storage e da poco anche la possibilità di usare in realtà in preview la possibilità di usare ecco qua sotto le identity anziché i secret, i secret intendo la stringa di connessione con le chiavi potete usare i role-based access control invece che quella quindi ma è ancora in preview, sarà annunciata a build se non mi ricordo male. È quello con costo minore perché ricordate in uno storage voi pagate quello che memorizzate quindi diciamo che se fate eseguire un orchestratore avrete la record dello stato dell'orchestratore stato attuale più la storia e basta se non parte nessun orchestratore costo zero. MostMator è semplicemente perché è l'unico a non essere in preview e perché c'è da sempre. Neterit è un progetto di Microsoft Research che è l'unione di Event Hub e di un database si basa su tecnologia faster è un database chiave valore realizzato da Microsoft Research quindi questo questo provider usa IoT Event Hub per la parte di di chiamate dinamiche tra le varie funzioni e usa il database faster per la ho messo il link poi nella nella slide la parte di faster per la la parte di memorizzazione dei dati. L'ultimo che è quello che ci interessa qui è SQL Server è ancora in preview quali sono i vantaggi allora quali sono i vantaggi quali sono i caratteristiche tanto è rispetto agli altri supporta gli environment disconnessi perché Knederit ha bisogno di Event Hub quello dello storage ha bisogno dello storage c'è il simulatore locale che in realtà poi dietro le quinte mi pare si appoggi su un SQL dietro un SQL Express però non è adatto perché non non avete la la diciamo la consistenza dei dati che avete in SQL è portabile rispetto a multiple environment perché sì quello installate dove pare lo storage è Azure Neterit usa Event Hub che è Azure quindi strong data consistency questa è una banca dati vera e propria gli altri due in realtà non lo sono di o faster un po' è banca dati ma lo storage sicuramente non è una banca dati quindi ha meno consistenza vabbè ha il supporto per l'encryption nel senso che SQL Server supporta l'encryption anche on-prem quindi quando fate già on-prem c'è l'encryption è massimo anche lo storage sì ma lo storage già gira su Azure quindi non ce l'avete locale e poi la cosa interessante è che linea teorica è anche pratica potete integrarlo con le applicazioni perché adesso vi faccio vedere lui crea delle tabelle in una banca dati e quelle tabelle sono accessibili voi sicuramente siete in grado di farlo magari con delle store procedure quindi quei dati che sono dentro le tabelle della storia piuttosto che dello stato le potreste leggere direttamente applicativamente magari con delle store procedure con delle viste quindi in realtà l'integrazione con piattaforme con applicazioni già esistenti da questo punto di vista dal punto di vista dei dati è più facile uno storage sarà qualcosa che comunque è esterno alla vostra applicazione quindi dovreste scrivere il codice per leggerlo è vero che anche su SQL dovreste scrivere il codice perché scrivete le store procedure le viste però ci siamo capiti finisce nel vostro banca dati quindi lato backup lato consistency dei dati è vostro sta nel vostro in cloud il vostro environment dall'altra parte sta nello storage che è sempre vostro però è esterno all'applicazione scenari vabbè cloud agnostic però ci sono le function sì ma le function girano su runtime che è in realtà multiplattaforma quindi ovunque è riuscito a far girare il runtime girano le function quindi potenzialmente anche su un device che non c'entra niente con Azure su cui c'è SQL e quindi l'accoppiata gira dovunque voglio performance e scalabilità predictable i due casi gli altri due usano o lo storage che ha delle performance non ha latenza garantita non ha slack garantiti ha degli slack garantiti ma non ha latenza e le performance su quelle non è che potete aumentarle e l'altro è nether it usa event hub quindi di fatto è insomma difficilmente è configurabile ma difficilmente stimabile SQL è facile quando andate su Azure avete i v-core e quindi sapete benissimo quando state spendendo vi serve più potenza aumentate i v-core vi serve ancora di più aumentate i v-core anzi vi invito ad aumentare i v-core perché ho famiglia e quindi mi ci pagate lo stipendio però il concetto è questo lì ho pieno controllo quando ho SQL posso ovviamente scalare meglio rispetto a uno storage perché è un servizio pass che nasce per scalare sui dati quindi ci stiamo data encryption business continuity lo storage l'unica business continuity che c'ha è il fatto di avere la replica geografica sulla per la regione in per e in sola lettura quindi la vedo difficile su un'infrastruttura con le durable function nel momento in cui ho una soluzione multiregione va giù una regione principale la secondaria sarà in sola lettura quindi al massimo leggo l'orchestratore ma non va avanti nulla SQL invece ha dei meccanismi di data encryption che va bene ma anche di business continuity voglio accedere di attenti dati l'abbiamo visto perché sono dentro SQL e quindi distep e store procedure come se piovesse e poi multitenancy perché in realtà quello che posso fare è che all'interno della stessa delle stesse tabelle ci finiscono dati di più tenant di più hub si chiamano posto in cui salvate quei dati delle orchestratori adesso ve lo faccio vedere praticamente come faccio a usarlo però i storage qualsiasi altro storage providers quindi non necessariamente lo storage la prima cosa esiste un package uno per SQL uno per Nethery lo aggiungo al mio progetto poi vado nel file host json nel file host json in una function è quello che descrive il comportamento dell'hosting siccome il provider la scrittura dei dati è a carico di l'host cioè della parte del diciamo dei task che gestiscono che hostano le vostre funzioni sarà lì che andrò a modificare quindi lì avrò tutta una serie di funzionali di proprietà da aggiungere tipo quale provider sto usando SQL Nethery e poi per esempio qual è la stringa di connessione per SQL quali sono i time out posso configurare un po' di roba addirittura posso configurare il fatto che se non c'è la banca dati la crea ok so che non si fa in produzione però insomma ve la create voi non è un problema però c'è anche questo quindi c'è tutta una configurazione quindi quello che faccio fondamentalmente è andare qua questa è la parte del host adesso poi ve lo faccio vedere praticamente e quindi alla fine scrivo il type in questo caso MS SQL SQL questa è la connection name cioè che significa significa che lui va nel file di configurazione e cerca una configurazione che ha questo nome quindi qui non c'è la stringa di connessione c'è il riferimento questo perché voi l'host è lo stesso per tutti i deployment ma magari avete più environment quindi nell'environment di test quella connessione sarà una nell'altro environment di produzione ne sarà un'altra quindi poi andrete a personalizzare nella configurazione quello che viene fuori quello che viene creato è una banca dati che si chiama Durable Function DB ma semplicemente perché nella connessione in questo caso si chiama così perché nella stringa di connessione ci ho messo quel nome un dt punto qualcosa e qui dentro adesso andiamo a vedere come vedete già c'è una cosa che si chiama history una cosa che si chiama instances e questi sono esattamente il mapping di quelle history e instance che abbiamo visto dentro la parte dello storage e poi ce ne sono altre tre adesso capiremo che sono fondamentalmente le tabelle utilizzate per gestire le code quelle che di là erano le code qua vengono gestite con delle tabelle in particolare sono task event e payloads è la tabella adesso la andiamo a vedere in dettaglio che gestisce gli oggetti che passate tra orchestratore e attiviti e tra attiviti e l'orchestratore perché nella tabella che avevamo visto prima dello storage e poi andiamo a rivedere c'erano i payload ma quel payload nel mio caso erano stringhe ed erano array quindi roba molto semplice ma immaginate che lì ci sia un JSON complesso quindi pesante quello che fa SQL è non metterle nelle tabelle di dell'history ma mettere un riferimento un ID che punta a una tabella esterna con i payload giustamente quindi lì ci avete tutto in maniera leggermente diversa da quello che accade nello storage ma c'è tutto vediamo come funziona se funziona ma penso di sì allora host quindi quello che qui faccio tolgo questi commenti tanto per farvi vedere qua c'è il nome della connection string e qua tanto la potete pure vedere non si vede ed è questa in questo caso se sto lavorando sulla macchina locale il database si chiama così bla 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 ok perfetto chiaramente quando andrete su Azure lì ci sarà stringa di connessione del database su Azure gli dico guarda crea il database se non esiste in effetti se vado a vedere con Data Studio va bene anche Management Studio solo che Management Studio non avevo la possibilità di zoomare per farvi vedere bene i dati quindi sto usando Data Studio qui dentro non ci sono database a parte i system ok quindi adesso lo faremo rifare il giro alle nostre alle nostre function e qui dentro vedremo che compaiono compaiono database e compaiono le tabelle ok ci siamo poi ci sono altre se andate a vedere ci sono altre in base al tipo di provider avete diverse configurazioni possibili che permettono di controllare caching timeout dipende ovviamente dal provider allora lo rilanciamo a questo punto lui dovrebbe ah vedete scusate abbiate pazienza ma non ve l'ho fatto vedere ma se riesco qua tanto lui sta girando vado qui dove stanno packages allargare qua vediamo se riesco a zoomarlo no però qui vedete che c'è Microsoft Durable Task è uno delle estensioni del Durable Task SQL Server Azure Function questo è il RC perché ancora in preview questo è il il pacchetto il package Nuget che serve per dire al Durable Task che quando io metto qui MSQL lui deve andare su SQL altrimenti se lo mettete non avete referenziato il pacchetto è un errore evidentemente no perché non lo trova non è in grado di interpretare questo è ripartito di nuovo quindi facciamo così non andiamo nel codice ma ci mettiamo qui facciamo che guardiamo che succede nel log avevo lasciato però questo massimo quindi guardiamo che succede nel log ma lo guardiamo da qui notate che adesso qui dovremo vedere n righe perché come al solito ad ogni client ha lanciato l'orchestratore executing che ha chiuso poi parte l'attiviti il fatto che siano in sequenza è un caso perché sto sulla macchina ma se lo fate su Azure parallelizza la cosa ma insomma parte l'attiviti chiude l'attiviti parte l'orchestratore chiude l'orchestratore riparte l'altro attiviti questo è esattamente a livello di log quello che abbiamo visto prima a livello di codice che è successo qua dentro ci siamo siamo in tempo qua è apparso il DB con le tabelle che vedevamo prima allora dove trovo l'history qua dentro perfetto se guardate la tabella più o meno simile a quello che avevamo prima il sequence number è un numero di là era un'ese decimale qui è un numero vabbè adesso è il tempo che trova lascia il tempo che trova i timestamp i name quindi il fatto che sia l'attiviti che è stata start up esattamente come di là l'unica differenza grossa è questa qua nel payload di là c'era data payload non mi ricordo vediamo un po' come si chiamava si chiamava payload data payload non me lo ricordo onestamente sono anziano abbiate pazienza ma sono anziano quindi non me lo ricordo si chiamava un po' e che qui le tabelle le colonne non le mette allineate si chiamava vediamo un po' se lo trovo il nome perché è result result in realtà si chiamava qui ed era questo quindi qui c'era il result in questo caso la stringa se fosse stato un oggetto complesso ci avrei avuto il JSON e quant'altro in effetti qui c'è un JSON questo è l'array di string scritto in JSON dall'altra parte invece qua non ho nulla qui non ho il payload il payload qui li chiama in generale payload potrebbe essere il risultato quello che avete passato alle funzioni non c'è ma c'è riferimento alla tabella payload qui dentro questa tabella io ho i payload ok e questo c'ha senso se pensare perché questa roba qui potrebbe essere grossa piacere e serve solo serve solo quando serve quindi è giusto che sia una tabella esterna quindi da questo punto di vista è anche fatto discretamente la parte di instances contiene le stanze quindi una sola è esattamente uguale all'altra qui non cambia nulla se non per il fatto che il risultato e il payload è in quella tabella quindi al solito ogni volta che deve mettere un qualcosa di dimensione variabile il risultato o i parametri che passate lo butta all'esterno ok queste due invece vengono utilizzate qui probabilmente vediamo un po' se c'è dovrebbe essere qualcosa vediamo un po' no questo è vuoto e sono tutte e due vuote perché in realtà ha già gestito tutto qui dentro vediamo un po' sì questi vengono queste tabelle vengono usate quando ha invece delle code quando l'orchestratore deve far partire attiviti quando l'attiviti ha finito e deve far ripartire l'orchestratore viene usata questa tabella il come onestamente il codice del provider non l'ho visto onestamente ancora devo essere sincero non è neanche banale però è tutto sul repository del storage provider per SQL quindi lì in realtà potete dare un'occhiata se guardiamo il risultato di questa query è uguale a prima cioè mi è tornata l'elenco delle delle API provo a copiare questo vediamo se riesco a fare la chiamata è una get quello che mi aspetto che questo è tanto per farvi vedere visto che ho tempo e quindi come questa volta non sono arrivato lungo ho tempo questo mi dice che questi di risponde all'orchestratore il suo instance di questo ha completato il lavoro e il risultato l'output è questo json se qui avessi avuto un oggetto complesso avrei potuto ottenere l'oggetto complesso quindi qui ho le informazioni sull'orchestratore perché vi ricordo l'orchestratore potrebbe durare tempo la chiamata lo fa partire poi ribadisco avete modo di e vi faccio vedere come si fa qua tra i vari metodi possibili avete wait for completion o create qui in realtà non è qui ma lo fate dopo potreste dire non è qua che lo mettete ma è qui a posto di questo create status response questo crea quell'oggetto con tutti gli url dicevo aspetta per un po' ed eventualmente se non ha finito l'orchestratore lui lo sa benissimo quando l'orchestratore ha finito se non lo sa lui non lo sa nessuno se l'orchestratore ha finito torna il risultato altrimenti tornami quella pagina ok potete gestire il client anche in modalità semisincrona anche se in realtà è sempre tutto asincrono ok avete visto lui start quindi io se vado qui ne faccio partire altre faccio partire sto cliccando un pochino qui probabilmente vedrò un po' di roba che si muove è partito n volte ha fatto il suo lavoro ha scritto ha girato ha cosato e tutto quanto quindi diciamo che questa cosa è abbastanza chiara spero sia abbastanza chiara un'altra cosa interessante vediamo se riesco a farvela vedere il Jason ve l'ho detto per quanto riguarda le function io ho scelto in questa demo molto semplice di metterle tutte all'interno di un file usando una classe statica in realtà la modalità con cui colate le function è assolutamente a vostra discrezione nel senso che la function è un metodo decorato con function name poi se usate una classe per ogni function le raggruppate per logica le raggruppate per tipologia le raggruppate in ordine alfabetico è un qualcosa che fate voi l'unico vincolo c'è al momento è che devono stare nello stesso progetto quindi questo è il progetto delle function devono stare tutte qua dentro quindi non ci avete scampo quindi non potete creare più progetti o meglio si lo potete fare ma in realtà il blocco della function deve stare in quel progetto poi magari all'interno chiamate altro ma non è da database ovviamente il tutto funziona anche se portate sul cloud quindi prendete questo deployate le function chiaramente nella configurazione metterete la stringa di connessione a un SQL database o a una macchina virtuale con SQL che è visibile dalle vostre function il tutto automaticamente funziona bene questa è andata allora io praticamente sono arrivato con ben un quarto d'ora d'anticipo facciamo un attimo di ragionamenti allora ora dico andrei da pranzo prima non credo che nessuno ne sentirà avrà problemi riguardo a questo allora cominciamo un po' di recap allora dato un'occhiata alle durable function se primo vi serve implementare workflow vi serve di farlo in maniera serverless serverless fondamentalmente significa se ben scritto io spendo solo quello che serve per l'esecuzione del mio business ok a differenza per esempio di API e batch gestiti con l'app service quando voi create un app service voi pagate l'app service plan ma quello non si spegne quindi se nessuno chiama il vostro app service se nessuno fa partire il vostro codice voi comunque cacciate i soldi in questo caso le durable function sono appoggiate sulle function e le function nelle function voi pagate per numero di esecuzioni e occupazione della memoria della CPU e essendo function nel piano consumption ricordate che avete un milione di esecuzioni gratuite al mese quindi serverless meno codice codice solo relativo al business avete visto lì faccio solo la logica di presentazione costo effettivo ad utilizzo quindi ragionatevi è ovvio che ha dei limiti e come tutte le cose per esempio con le durable function non è una buona cosa implementare un workflow con un loop infinito se ci pensate quello che succede mi sono appena messo un dito nell'occhio se ci pensate quello che succede quando l'orchestratore chiama l'attivity e poi torna riparte di nuovo quindi una nuova esecuzione poi magari richiama l'attivity ritorna e fa una nuova esecuzione se mettete un loop infinito capite che il costo esplode perché quello tirerà in continuazione ok però hanno dei scenari interessanti per esempio la possibilità di andare ad interagire con un workflow tipo quello che abbiamo visto con un evento dall'esterno quindi immaginate la richiesta di ferie richiesta di ferie è lo start di un workflow che dice ok mando la mail al manager del tizio per la richiesta di ferie quel manager potrà approvare o rifiutare ma ha 72 ore per farlo quindi che cosa ho un loop sì ma che dura 72 ore peraltro è un loop di tipo serverless cioè la piattaforma si segna che tra 72 ore quel workflow deve ripartire e non gira nulla quando il manager approverà arriverà c'è un modo di mandare un evento ed era uno degli degli API che c'erano riportati c'era una che era tipo put event quello serve per mandare un evento e quindi il workflow riparte e va avanti quindi è abbastanza complesso è abbastanza cioè vi permette di fare un sacco di cose attenzione che avete un'alternativa logic app vi permette di implementare workflow serverless anche più complessi perché ci sono una marea di connettori le durable function ce ne hanno solo una trentina ma logic app ne hanno una marea ma al momento logic app solo azure questo in realtà gira abbastanza dovunque vai avanti ok il framework la strazione di tutta il gioco di chi chiama chi mi metto a dormire riparto salvo lo stato lo stato sta di qua lo entro là è tutto gestito dallo stato di persistenza al momento ne avete tre lo storage è quello di default e gli altri due in Etherit dategli un'occhiata se siete interessati e SQL in preview non so quando andranno in GA abbastanza maturo quello di SQL con le Etherit non l'ho provato onestamente quindi non ve lo so dire però la strazione della persistenza dello stato è tutta a carico del framework quindi non cambia il vostro codice e questo è l'ultimo punto non cambia il vostro codice se cambiate lo stato di persistenza paradossalmente potreste prendervi come scritto quello di SQL la butto lì e non è detto che in futuro non accade come scritto quello di SQL e riscriverlo come vi pare perché tanto è un qualcosa plaggabile non è banale ve lo dico prima perché io un'occhiata glielo ho dato non è per niente banale però è fattibile è open source me lo scarico capisco come funziona e magari scrivo il mio non so se in futuro sarà semplificata la cosa ma insomma detto questo con ben dieci minuti di anticipo io ho terminato qui ci sono i miei riferimenti il mio LinkedIn il link aga.ms slash durable book per chi è interessato questo è un libro gratuito di Syncfusion di cento pagine tutto su durable function non c'è il meccanismo dello storage del storage provider semplicemente perché sono stati annunciati dopo questo è uscito a inizio anno non so se verrà fatto un update ma insomma tutta la parte tutta la spiegazione sulle durable c'è per insulti domande intanto vediamo se ci sono domande nella chat non vedo domande tutti insulti domande e qualche altro c'è della mail c'è della LinkedIn quindi Twitter quindi potete fare come vi pare vi ho lasciato un po' di link qua in particolare la documentazione delle durable questo è la documentazione sui provider questa è la documentazione di GitHub page specifica di SQL provider il repo che vi dicevo e il repo di questa demo ma è veramente stupida questa demo ma insomma c'è e qui dentro in realtà trovate demo di altre caratteristiche delle function tra cui anche il binding e trigger custom quelli che vi dicevo detto questo io vi ringrazio non so se c'è una regia che sgancia la trasmissione in ogni caso buon pranzo per chi ci ascolta indifferita se state prima di pranzo buon pranzo altrimenti buon qualsiasi altra cosa ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti